Meme mania! E' questo il carburante che spiega lo skyrocketing di Solana. In questo modo ci rendiamo conto di che cosa significa il decoupling rispetto alla media di mercato e le principali main altcoin, ma soprattutto perché si sta verificando questo tipo di fenomeno sull'ecosistema di Solana e non sugli altri. Tutto è dovuto ai new adopters, ossia alle giovani generazioni che sono arrivate in questo momento sul mercato, solitamente 17, 18, 19, 20 anni, i colori quali non hanno potuto vivere o operare durante il precedente ciclo di mercato perché da una parte chiusi in pandemia o dall'altra perché per la giovane età non avevano all'epoca chissà quali risorse. finanziarie immaginiamo appunto un 14-15enne che oggi invece si trova a 18-19 anni magari con qualche migliaio di dollari o migliaia di euro da poter utilizzare, da poter impiegare. E che cosa fa pertanto un giovane ragazzo che cerca il profitto facile a fronte di tutto il FOMO che è andato a crearsi nei mesi precedenti in prima battuta con il tantamma di Bitcoin e adesso a quanto pare per le aspettative che ci saranno in seguito forse a maggio o giugno con Ethereum e i relativi prodotti a replica fisica. Ovviamente per investire sul mercato cripto, sulle principali altre cose bisogna avere determinate dotazioni di capitale, bisogna avere disponibilità, risorse finanziarie di una certa entità. Chi ha poco denaro cosa fa? Cerca il 50 per, il 100 per, il 500 per come si inizia a vedere su numerosi tutorial o video di anche intrattenimento di influencer a livello mondiale i quali spiegano come posizionarsi su una meme coin appena lanciata che consenta di trasformare magari 100 dollari, 50 dollari potenzialmente, plausibilmente, con molta fantasia in 1000 dollari, 1500 dollari che è quello che cercano appunto i giovani. Non investing ma gambling. E per farlo ricorrono a Solana. E per quale motivo? Perché Solana è l'unica chain che in questo momento ti permette due operazioni basiche che sono ricercate, molto attenzionate proprio da un pubblico giovane. Innanzitutto una user experience di facile comprensione, ma in particolar modo di elevato impatto. E su questo punto di vista l'asso di bastoni ce l'ha a Phantom. Molto più interessante, molto più attraente rispetto a Metamask. Ricordiamoci 4-5 anni fa si passava per Metamask, scusate per Metamask ed Ethereum e si pagavano quelle che erano all'epoca le commissioni per interagire con la rete che tutto sommato erano in alcuni casi anche all'inizio, fine 2019, inizio 2020, anche sostenibili. Qualche centesimo di dollari in Ethereum poi sono esplose e diventati insostenibili. Pertanto lo stesso tipo di interazione oggi lo possiamo fare ricorrendo a Phantom e poi soprattutto agli address di Solana che consentono di poter interagire con la rete anche con 10, 20, 30, 40, 50 dollari spalmare quel tipo di operatività su 10, 20, 30 meme coin che rappresentano un fenomeno di mercato che per alcuni aspetti ricorda qualcosina della Ico Season che è andata in scena proprio con Ethereum e permettono pertanto di poter impiegare integralmente senza avere un assorbimento particolarmente elevato a livello commissionale in quanto ad esempio un ragazzo giovane l'ho visto personalmente con i figli di colleghi che chiedevano appunto come poter interagire per comprare la tal meme coin che avevano visto o di cui avevano sentito parlare all'interno delle loro reti di relazione sociale ovviamente tutto il tam tam sui social chiamiamoli così giovanili che incitavano a buttarsi a capofitto sulla tal nuova meme coin di Solana perché aveva un'aspettativa di quotazione mostre da qui a qualche mese inimmaginabile ma soprattutto perché con 20, 30, 40 dollari io potevo effettivamente andare ad investire 20, 30, 40 dollari con facilità anche ricorrendo ad un'interazione con una user experience che non ha in questo momento qua concorrenti data da Phantom nella versione mobile e pertanto potevo andare a swappare 30 dollari 30 USDC o 30 dollari sotto forma di Solana con la tal meme coin che diveniva pertanto resa disponibile sul wallet senza chissà quale assorbimento commissionale qualcosa del genere è improponibile su Ethereum e anche sui layer 2 e non abbiamo visto niente del genere su altri ecosistemi è per questo che solo si è impennato nel giro di pochissime settimane il numero di wallet attivi, di address attivi arrivando a all time high quindi record storico di numero di address che hanno e stanno operando sulla chain di Solana e dall'altra parte anche il numero di volumi sulle stable coin ricorrendo che viaggiano attive su Solana che sono ovviamente necessarie a tutte queste operazioni più aggiungiamoci il carico della DeFi che sta diventando attraente per chi è particolarmente giovane perché può scoprire opportunità di investimento cosiddetto DEGEN come dicono loro al 50, 60, 70, 80, 90% e così via discorrendo di certo un giovane non si accontenta del 7-8% magari della semplice funzione di staking o tanto meno del liquid staking ma come avvenne all'epoca nel 2020-2021 quando la DeFi di Ethereum assorbi tanti capitali perché in quel momento storico c'era solo la DeFi di Ethereum come monopolio per quanto riguardasse questa tipologia di operatività adesso la stiamo riscontrando su Solana con il asso da bastone in questo caso di Phantom che sta diventando una killer application per MetaMask perché tutti i tutorial che in precedenza o ancora ad oggi consigliano MetaMask una volta che vengono affiancati a un'interazione o a fruizione con Phantom danno definitivamente il K.O. tecnico a MetaMask nessuno torna a riutilizzare MetaMask questo proprio al 100% ho potuto verificarlo anche io stesso da qui e in questi ultimi mesi di chi una volta ha ricevuto l'input di provare Phantom mi ha ringraziato e mi ha spiegato che c'è un differenziale appunto in termini di user experience che non ha paragoni considerate che Phantom sta sviluppando la versione Beta anche per Bitcoin quindi tra probabilmente qualche mese si potrà iniziare a utilizzare per le transazioni di Bitcoin native anche Phantom l'aspetto più interessante è che stiamo notando che tutto questo FOMO tutta questa mememania su il potenziale di esplosione dei prezzi con casistiche anche eclatanti di alcune memecoin parentesi su alcune anche Torino DAO ha una piccolissima esposizione insignificante perché nelle prossime settimane andremo a effettuare un primo drop sperimentale a tutti i Torino members che detengono un NFT della DAO e pertanto lo vorremmo fare proprio ricorrendo ad alcune note memecoin di Solana con l'idea appunto di sperimentare il drop per la prima volta e ad ogni modo quello che sta diventando particolarmente interessante è vedere, percepire come questo tipo di fruizione fa da traino crea adozione, importa da altri ecosistemi adopters e trasforma lentamente Solana in un ecosistema sempre più ampio e coeso considerate che non è casuale appunto il raggiungimento il nuovo raggiungimento della quarta posizione questa volta plausibilmente destinata a mantenere per le prossime, per i prossimi mesi ci siamo avvicinati al massimo, al precedente oltre ai mai di Solana e a questo punto una volta che sarà superato è plausibile che tutto possa verificarsi magari nelle prossime settimane barra a mesi per tutta l'enfasi che si sta creando attorno a Solana si sta percependo la sua resilienza in termini di price action proprio legata all'adozione, adozione di nuovi adopters e soprattutto alla migrazione anche da altri ecosistemi che adesso comincia a essere trasversale proprio perché ci si rende conto che ormai la DeFi di Solana non ha niente a che invidiare con la DeFi di altre soprattutto adesso che è diventata molto più resiliente post quello che abbiamo conosciuto nel 2021 e le prospettive a quanto pare sembrano particolarmente rose per chi non lo sapesse ci sono in gestazione due grandi novità per i prossimi mesi che potrebbero scatenare ulteriormente la price action ma anche un ulteriore apporto di adozione da una parte abbiamo il rilascio spiccabile del Fire Dancer forse quest'estate, giugno, maggio, giugno il Fire Dancer è il nuovo Client Validator che rappresenterà, darà un effetto overboost a tutto l'ecosistema per chi non sa ancora che cos'è Fire Dancer trovate qui in background un precedente video editoriale che spiegava il potenziale e l'importanza del rilascio di Fire Dancer dalla beta alla mainnet e poi a questo punto la domanda ha iniziato a avere sempre più enfasi mediaticamente parlando perché dopo Bitcoin con gli ETF dopo Ethereum con gli ETF è auspicabile aspettarci soprattutto adesso con la quarta posizione ed anche in mondiale gli ETF su Solana negli Stati Uniti perché badate bene in Europa già esistono e se non lo sapete al momento attuale il secondo ETP per AUM è diventato quello di Solana della 21 il primo per AUM rimane ancora quello di Bitcoin della ETC Group torneremo qui tra qualche giorno a fare un update di mercato vi ricordo che a questo venerdì mi potrete vedere di persona all'investing di Napoli durante la sessione 3D online verrà finalmente lanciato il nuovo esperimento con denaro reale It and Run grazie ai Perpetual di Solana effettueremo nel tempo in un lasso di tempo piuttosto ampio operazione in mordi e fuggi It and Run su più coppie che ricorrono a Solana con i Perpetual andando poi a swappare di volta in volta i vari profitti che si otterranno in TBTC ossia il Bitcoin nativo di Solana che viaggia con le stesse caratteristiche di tutti gli altri token che ha Solana con l'intento pertanto di andare a fare che cosa? Creare un pack creare un pack su non Bitcoin ma TBTC senza essere gravato delle tipiche commissioni e onerosità che ha un pack che è nativo invece della chain di Bitcoin anche questo vorrà essere un nuovo esperimento con denaro reale che si affianca a Road to 100k in background ulteriori nostre convinzioni tematiche di investimento come Uchain